Siamo qui con gli atleti del Senigallia Nuoto che vogliono fare qualche domanda a Marco Orsi, vice campione mondiale nei 50 stile libero. Ragazzi, chi di voi vuole cominciare? Come ti chiami? Sara. Quante ore ti alleni? Allora, tra nuoto e palestra melino circa 4 ore al giorno. Suddivisa tra mattina e pomeriggio. Chi è il prossimo? Chi è il prossimo? Sei soddisfatto dei tuoi risultati? Sicuramente con i risultati ottenuti e tanto sacrificio, sono molto contento. Spero che arrivino altri risultati più soddisfacenti, magari alle Olimpiadi tra due anni. Vale la pena di fare tutto quello che fai? Eh sì, vale la pena alla fine perché comunque quando sei su un podio, hai al collo una medaglia che hai sempre sognato e tutte le cose che hai fatto prima si oscurano e diventa tutto bellissimo. Quali consigli ci dai? Sicuramente ci sono momenti bui e ci sono momenti positivi, no? Più monti bui che positivi, diciamo. Ne ho avuti tanti. Spero che quando riesci a realizzare quello che hai sempre sognato, tutto diventa più bello. L'ho già ripetuto ma è così. Quindi bisogna sempre crederci, testa bassa e cercare di migliorare sempre. Che cosa provi quando sali sul podio? Beh, sicuramente è un'emozione unica. Sia arrivare primo, secondo, terzo, ma comunque anche gareggiare a un Olimpiadi, a un mondiale, a un europeo e anche a un italiano ovviamente. È un momento indescrivibile. Ho avuto la fortuna anche di partecipare a tanti antieventi e avere tante soddisfazioni, ma l'emozione più grande è sentire l'Inno d'Italia insieme ai tuoi compagni sul gradino più alto del podio. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Ora, i prossimi obiettivi saranno italiani ad aprile, dal 13 al 19, infatti vi invito se volete venire a Riccione a vederci. E poi dopo saranno, se riuscirò a qualificarmi, saranno gli mondiali a Kazan in Russia a inizio agosto e poi ovviamente il prossimo anno l'Olimpiadi a Rio. Ci spera di partecipare. Che cosa hai dovuto sacrificare per ottenere questi obiettivi? Ho sacrificato abbastanza, diciamo, sicuramente la mia gioventù, anche se sono giovane, a 24 anni, la mia gioventù è stata un po' ridimensionata, diciamo. Non potevo fare partita a caccetto che tra l'altro farai sicuramente, vero? Sì. Ecco, quelle non possono farle, comunque uscire come mi dice troppo tardi non si può fare, l'alimentazione bisogna avere un'alimentazione corretta, e quindi è qualche sacrificio che va fatto, ma poi quando vedi i risultati dici, vabbè, va bene farli. A posto così ragazzi? Benissimo, grazie. Approfitto, faccio una domanda io a Marco Orsi e ti chiedo che cosa vorresti dire a questi ragazzi, che consiglio dai a loro? È un buon consiglio, ma lo ripeto anche prima, sicuramente di, anche se il risultato non viene subito, comunque noi lavoriamo per un risultato, no? Tra l'altro voi dovete fare i giovanili, non so se qualcuno l'ha fatto, no? Niente, regionali? Niente, regionali, perfetto, bene. Ecco, il vostro allenatore lavora per voi, credete sempre nel vostro allenatore, perché alla fine lui sa benissimo quello che farà per voi, il vostro meglio, diciamo, e se il risultato non viene subito, cercate di rincorrere il più possibile, sempre, e vedrete che con tanta costanza, soprattutto, arriverà. Grazie a Marco Orsi, grazie agli atleti del Senigallia Nuoto, grazie, arrivederci.